Grande difficoltà, in modo particolare per gli uomini più anziani, per trovare un posto letto nelle RSA cremonesi. La situazione, analoga a quella delle altre città lombarde, viene segnalata da moltissime persone che di tasca loro pagano strutture private o soluzioni temporanee alle liste d'attesa lunghissime. La situazione a cui assistiamo oggi è ben diversa da quella di due anni fa, quando con tante morti per Covid i posti letto si liberavano velocemente. Oggi invece avviene il contrario, si stanno nuovamente allungando le liste d'attesa, quindi essendo lunghe le liste d'attesa diventa quasi impossibile riuscire ad entrare nelle RSA, nelle case di riposo. Questo cosa significa? Che servirebbero molte più strutture e anche molti più investimenti nella sanità da parte del Ministero della Sanità per quel che concerne il socioassistenziale. Diventa impossibile riuscire ad entrare nelle RSA. Io stesso ho dovuto intervenire in più occasioni per cercare di far entrare nella casa di riposo anche anziani per i quali la famiglia era in estreme difficoltà. E quindi pian pianino siamo riusciti ad aggiustare queste posizioni. In media a Cremona la retta giornaliera ordinaria è di 61 euro, che sale a 63 per gli affetti da Alzheimer. Laddove non c'è posto nell'RSA c'è il settore dei solventi, però il settore dei solventi serve un po' per guadagnare tempo prima di riuscire a mettere l'anziano nell'RSA. E comunque ha un costo. E che comunque costa molto di più che neanche metterlo nell'RSA. Parliamo di due o tre mesi al massimo, con un peso ulteriore sulle spalle dei familiari. Adesso che i costi energetici sono un po' più contenuti, i posti letto sono tutti occupati, chiedo, ma le strutture adesso abbasseranno i costi, oppure li faranno sostenere sempre alle famiglie? Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.